Radio Bruno Non vorrei dirle troppo ad alta voce, perché sai, comunque grazie, grazie a tutti, grazie alla Radio, a Radio Stella, a Radio Bruno, grazie soprattutto a Modena e a tutti i modenesi che hanno permesso questa cosa, non tanto della festa che stiamo facendo oggi, ma anche della festa che c'è stata l'anno scorso e sono sicuro della festa che ci sarà l'anno prossimo, quindi ancora grazie a tutti.